Cambiamo ora argomento il MUSEK, uno dei capisalti su cui fondare un più complessivo rilancio del turismo nella provincia di Sernia e più in generale nell'intera regione. Questo è quanto auspicato dalla responsabile del presidio turistico Pentro, Emilia Vitullo. Ascoltiamo. Un nuovissimo museo che abbiamo faticato a trovare perché è nella sede della provincia, quindi non è pubblicizzato, non c'è un insegna, non c'è niente. Il Museo del Costume. Stupendo. Una cosa incredibile. Cosa rispondiamo a questa turista giunta da Torino, dal Piemonte, rimasta estasiata dalla bellezza anche che ha trovato in questo museo con la piccola difficoltà a raggiungerlo? Rispondiamo intanto grazie per questi apprezzamenti. Questo era un gruppo che è stato indirizzato in questo itinerario proprio dal lavoro del presidio turistico. E quindi siamo molto contenti che abbiano apprezzato le cose che abbiamo loro proposto su Isegna. In particolare il museo che stiamo appunto proponendo il più possibile a tutti quanti. Ben sapendo di questo sguardo di stupore, di questa meraviglia che tutti i visitatori manifestano ogni volta che vengono. Questo ci inorgoglisce. Stiamo provvedendo peraltro a mettere qualche insegna fuori ma i nostri mezzi sono molto limitati. Certo noi abbiamo anche avanzato con la regione l'ipotesi di lavorare a un progetto più ampio. Gli attrattori sono tanti. Noi abbiamo tante potenzialità. Dovremo però chiederci perché rimangono molto spesso inespresse queste potenzialità. Noi la ricetta l'abbiamo nel senso che sappiamo bene che un attrattore turistico ha necessità di tutta una serie di servizi correlati. L'informazione e la tabellazione per esempio sul territorio è una di queste. Ma non soltanto. Ci sono le professionalità, ci sono gli alberghi, ci sono le strutture ricettive in genere, la ristorazione. Sono tutti elementi da mettere a punto per comporre un'offerta turistica. Quindi l'attrattore all'interno di una serie di servizi che lo rendano spendibile. Su questo siamo molto carenti. Non si è mai lavorato abbastanza forse proprio alla messa a sistema delle nostre potenzialità. Sapremo come farlo e questo è oggetto appunto di una proposta alla regione di poterci occupare a partire dal museo di un progetto molto più ampio che arrivi poi alla effettiva ricaduta economica, già che di questo stiamo parlando. Il turismo dovrebbe garantire appunto flussi di visitatori, quindi la possibilità di attivare economie sul territorio. Questo è un passaggio molto importante al quale guardiamo anche a partire dal museo.